Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Debi e lei è? Nessie E oggi faremo la post-it-ciale Taglia Noi 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 Sì. È youtuber? Sì. Il maschio. Sì. Il maschio. E fa molto ridere. Hai fatto di più a più? Non ci so. Ok. È alberico. Ecco, pure in basso. 1-0. Non ci so. Mi sento tutto in colleta. No, non ci so. Non ci so. Sono youtuber, sono maschio, sono cantante, sono femminile, sono cantante, si è... al dito del moschio, si e... inglesa? Sono inglesa? No. Perché sei del grande? Grazie a tutti Aia 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 Aia